Musica Via libera alla proroga delle graduatorie di operatore socio-sanitario, l'aula ha provato il provvedimento all'unanimità. 485esma edizione per il Carnevale di Fogliano della Chiana, il più antico d'Italia, un mese di festeggiamento dal 28 gennaio al 25 febbraio. Approvata la proposta di legge per la proroga delle scadenze delle graduatorie degli OSS. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la proroga delle scadenze delle graduatorie in ambito di operatore socio-sanitario. A livello regionale risultano essere in scadenza graduatorie approvate nel 2022 relativa al reclutamento di personale avente il profilo professionale di operatore socio-sanitario. E perciò, al fine di favorire l'economicità e la celerità nell'espletamento delle procedure di assunzione, anche in riferimento all'essenziale attività e a particolari contesti in cui operano tali soggetti, si rende opportuno disporre una proroga della relativa efficacia per il periodo temporale di un anno, ha detto il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, illustrando l'atto in aula. Marco Stella, di Forza Italia, primo firmatario dell'atto, ha ringraziato le commissioni consigliari che hanno aiutato il mio lavoro per elaborare una proposta di legge di proroga delle graduatorie. Oggi facciamo un passo in avanti con la proroga di un anno e mi auguro che la graduatoria vada in esaurimento e venga effettivamente utilizzata dalle aziende sanitarie, ha detto Stella. Il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sosteni, del PD, ha ringraziato il consigliere Stella per aver presentato la proposta di legge relativamente ad una graduatoria recente che può essere ancora valida. Sosteni ha ricordato che la Commissione ha preso l'impegno di valutare per casi simili di applicare le stesse norme. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata. Fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie, perché ci sono delle norme che dicono che durano due anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in Commissione, nell'analisi del testo presentato, abbiamo visto che ci sono dei precedenti comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatoria. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa, in altri casi in passato, in altre regioni, le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza Commissione, di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo, per capire e passaggiare anche la sussistenza della potestà legislativa. E questo è il tema che abbiamo affrontato oggi e che abbiamo deciso di affrontare con una legge che non è per niente scontata e che darà a chi è in quella graduatoria un anno in più per poter essere assunti. Per quanto attiene poi alla possibilità di assunzione, non ce lo spieghiamo che vengano assunti tutti coloro che sono nella graduatoria, però è evidente e sappiamo che c'è un limite forte alla capacità di assunzione della nostra regione che ormai ha già superato quello che è il limite, cioè la spesa storia del 2004, di vent'anni fa, ridotta del 1,4. Noi speriamo che venga eliminato, permanente quel vincolo non è un problema di assunzione degli OS, è un problema di assunzione di tutto il personale sanitario. Per Stefano Scaramelli di Italia Viva è giusto sostenere la proposta di legge e non illudere nessuno sull'effettivo utilizzo della graduatoria da parte delle ASL, perché fino ad oggi le aziende si sono rivolte in larga parte all'agenzia interinale, ha detto. La prologa delle graduatorie degli operatori sociosanitari è un atto importante, una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, è un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie, che in questo anno questa graduatoria venga utilizzata. Ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la graduatoria. Adesso che la graduatoria viene prorogata l'auspicio che venga utilizzata è come tale, si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. Secondo Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia, che ha ringraziato Stella per il suo impegno, questa legge non basterà se si continua ad aggirare le normative rivolgendosi per la ricerca di nuove assunzioni alle agenzie interinali. Petrucci ha segnalato come elemento negativo l'assenza dell'assessore della sanità alle sedute consigliari. Bisogna avviare una consultazione con la Giunta per avere un reale impegno e risposte certe per l'utilizzo di tali graduatori, ha detto. È stato fatto un primo passo, quello di prorogare in maniera unanime la graduatoria delle OS che sarebbe scaduta altrimenti fra pochi mesi. Questo è sicuramente un passo importante ma non è un passo risolutivo, nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la Regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo, una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere anziché le graduatorie assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la banderina della sanità pubblica e ci dicono che si fa altro. Anche Andrea Ulmi della Lega ha segnalato i rischi di un provvedimento di proroga se non c'è l'effettivo sblocco lavorativo per chi attende un lavoro dopo aver superato un esame ed essere in posizione utile per essere assunto. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste graduatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi avevano fatto delle mozioni, nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari perché gli OSS sono sicuramente il numero maggiore ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo vorrei e ho la Commissione Sanità dalla mia parte che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotaggi è quello che non fa andare avanti la gradatoria e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. Dal 28 gennaio il Carnevale torna a Foiano della Chiana. Nel 2024 il Carnevale di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo celebra la sua 485esima edizione una tradizione che affonda le radici fino al 1539 con i primi documenti che raccontano di un gruppo di cittadini che organizzava la prima esperienza di Carnevale. Si tratta di un evento che coinvolge centinaia di persone che nei quattro cantieri, Bombolo, Azzurri, Rustici e Nottamboli lavorano incessantemente tutto l'anno per costruire i giganteschi carri e organizzare gli spettacoli. Il programma partirà con la prima sfilata domenica 28 gennaio e proseguirà per tutte le domeniche di febbraio. Quest'anno torna protagonista la figura femminile di Zinfa Rosa la regina del Carnevale e tra i temi in primo piano ci sarà quello della violenza sulle donne. Il presidente Mazzeo, dopo aver ringraziato gli organizzatori per il grande impegno profuso, ha dato pieno sostegno al progetto del comune di Foiano della Chiana che insieme ad altri sei carnevali storici d'Italia ha l'obiettivo di presentare la candidatura all'UNESCO come patrimonio immateriale. Il Carnevale di Foiano è uno di quei carnevali che raccontano l'identità della nostra terra. 485 edizioni. Il modo con cui, attraverso il sorriso, la spensieratezza si prova a ripartire, però oltre ad essere un momento di festa, un momento di gioia, si mandano anche messaggi molto importanti, molto forti. Condivido molto la scelta degli organizzatori di lavorare intorno ai carri allegorici per mandare un messaggio contro le violenze sulle donne. Davvero un momento triste quello che stiamo vivendo nel nostro Paese. Tante sono le violenze, troppe. Se soltanto una donna partecipando al Carnevale riesce ad avere la forza di denunciare, credo che oltre a far divertire, questo Carnevale manda un messaggio sociale molto forte. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie a tutti i volontari. Senza di voi, senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Nel Paese c'è grande amore per questa manifestazione, ha spiegato la consigliera regionale Lucia De Robertis, con centenaia di persone coinvolte per ogni cantiere. Un radicamento dimostrato dai numeri, con più di mille persone coinvolte su 9.000 abitanti. Lavorano tanto tempo e soprattutto lavorano in una realtà che ha ormai consolidata nel Paese l'amore per questa manifestazione. Sono quattro i cantieri, sono oltre 50 le persone che lavorano proprio fisicamente, però sono centinaia le persone che poi partecipano per il proprio cantiere. Quindi insomma, tenendo conto che è un Paese, una città di pochi o più di 9.000 abitanti, avere più di mille persone che si interessano a questa manifestazione significa aver radicato questo in questo territorio. Le edizioni sono centinaia, noi ne abbiamo vissute molte. La Regione ospita dal 2019 la presentazione di questa manifestazione in Consiglio regionale proprio perché crede che valorizzare le manifestazioni significa far conoscere il territorio e rendere anche un po' giustizia a tutti quelli che tutto l'anno ci lavorano e che in questi giorni avranno l'esplosione della visibilità. Per il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli siamo di fronte al carnevale più antico d'Italia. È una manifestazione che porta un po' di leggerezza in un momento non semplice. Siamo di fronte al carnevale più antico d'Italia, un carnevale che porta un po' di leggerezza in un momento che è un momento non semplice parlando in generale. Devo dire che questo carnevale impegna gran parte della popolazione del volontariato di Foiano per tutto l'anno per presentare dei carri allegorici che sono veramente molto molto belli che sono paragonabili a quelli del carnevale di Viareggio e addirittura del carnevale di Rio tanto per scomodare anche quello che forse è il paradiso del carnevale. Quindi l'invito è veramente quello di dare soddisfazione a tutti questi volontari, all'amministrazione comunale che tutto l'anno fanno di questo appuntamento un appuntamento strategico per il quale lavorano. Andare a Foiano e in Valdichiana in questo periodo significa veramente potersi divertire ma anche poter godere di una parte di Toscana che è veramente degna di essere visitata. Si riparte con tanta voglia e tante motivazioni racconta il sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati questa è forse la manifestazione che più di ogni altra ci caratterizza. Si riparte con tanta voglia e tante motivazioni quindi noi abbiamo i quattro cantieri del carnevale che volontariamente costruiscono questi giganti in carta pesta e la novità è quella della prima domenica del 28 dove i cittadini foglianesi e non solo vorranno ammirare questa meraviglia. Quindi è un grazie a tutti i quattro cantieri che voglio nominare che sono Azzurri, Bombolo, Rustici e Nottamboli e al Comitato del Carnevale che ci permette insieme al Comune di organizzare una manifestazione unica l'unico carnevale che sfila nel centro storico quindi un unicum assoluto oltre a quello di essere alla 485esima edizione come carnevale più antico d'Italia. Quest'anno spiega il presidente dell'Associazione Carnevale di Foiano Andrea Capannelli abbiamo deciso di riportare in piazza come grande protagonista la zinfa rosa moglie di Reggio Condo che era stata accantonata negli ultimi anni neanche per dare risonanza a temi importanti e delicati come alla violenza sulle donne. Le tematiche dei carri ovviamente ancora non le conosciamo perché il nostro carnevale come sapete bene è molto segreto fino alla prima domenica nessuno sa quello che c'è dietro a quelle porte. Per quanto riguarda noi quest'anno abbiamo deciso di riportare diciamo in piazza la zinfa rosa che sarebbe stata la moglie di Reggio Condo che era stata un po' accantonata come progetto negli ultimi anni cioè si parla che l'ultima uscita mi sembra si parla del 79 e quest'anno insomma anche per dare risonanza appunto a tanti temi che sono delicati soprattutto per quanto riguarda l'ambito femminile abbiamo deciso di riportare anche nel nostro manifesto storico la figura della zinfa rosa. Il programma di questa edizione dedica particolare attenzione alla declinazione grafica ai percorsi di comunicazione curati dal direttore artistico Roberto Cateni ricco anche il cartellone di appuntamenti e iniziative a corollario delle sfilate dei carri parate di costumi, feste, spettacoli teatrali musica, baglie, esposizioni e cooking show è previsto anche un omaggio a 100 anni della Disney ma questo sarà un anno speciale per Fogliano della Chiana anche perché l'amministrazione comunale ha inserito il carnevale in un ampio progetto assieme ad altri sei carnevali storici d'Italia con l'obiettivo di presentare la candidatura quale patrimonio immateriale dell'UNESCO